un evento così importante e un altro testimonio che rappresenta il nostro territorio nel periodo del centenario ma soprattutto per stimolare e far capire l'offerta formativa comprensiva di Pellezzano alla guardia di alto livello formativo in occasione di un altro giorno di novembre per invitare tutti i residenti sul nostro territorio di Pellezzano e far riscrivere i nostri presi scolastici perché la scuola di Pellezzano è una scuola di eccellenza come ha potuto anche testimoniare questa mattina la presenza di Federico Buffa che tra l'altro rientra in un'iniziativa molto più ampia che quella di D-Live Medio direttamente collegata con l'Università degli Studi di Salerno di cui il comune di Pellezzano è parte dell'errore A proposito di eccellenza, il presidente in questo momento Buffa sta tenendo una sorta di lezione magistralis e gli alunni se la stanno facendo egregiamente gli applausi sono più per gli alunni quasi che per Buffa perché parla di Nelson Mandela e ragazzi che forse lo hanno soltanto conosciuto sui libri stanno rispondendo alla grande Certo, la nostra offerta formativa è molto ampia e abbastanza esauriente in tutti gli aspetti l'esperienza di oggi per la quale ringrazio il sindaco che al solito in sinergia con la scuola segue la crescita culturale del territorio e quindi la crescita dei nostri piccini l'esperienza di oggi si pone in un percorso più ampio di competenze di vita che è il percorso prioritario sul quale ci impegniamo come scuola con il territorio il sindaco aiuta in questo momento la scuola anche nella campagna di iscrizioni la nostra scuola non ha niente da meno rispetto alle altre scuole del territorio ringrazio ancora per l'esperienza di oggi, esperienza di vita molto valida che non farà che arricchire i bambini del territorio Grazie, complimenti